ciao ragazzi proseguiamo con le nostre combinazioni tecniche andiamo ad utilizzare anche in questo video la forbice ronaldo bicicletta chiamatela come preferite gestualità importantissima facile ma molto efficace per vincere i duelli oggi sapete che la vittoria degli uno contro uno diventa importante per sbloccare le partite abbiamo un calcio molto veloce quindi dobbiamo essere più veloci degli altri per per vincere i duelli vi faccio vedere abbiamo messo qualche cambio di direzione in mezzo fatene tanti è importante lavorare sul cambio di direzione perché tante volte spostare la nostra direzione il nostro corpo di qualche metro ci apre veramente grandi praterie poi in mezzo al campo e lavorate soprattutto queste gestualità in velocità ciao a tutti se non avete ancora fatto iscrivetevi